Cinema per il sociale a margine della festa del cinema di Roma che si è conclusa ieri sera ha segnati i premi Sorriso Diverso Roma Hour 2021. Il riconoscimento, come ha spiegato il presidente Diego Righini, va ad opere che affrontano temi sociali dall'inclusione al rispetto dell'ambiente. Il titolo di miglior film italiano è andato a Il legionario del regista di origine bielorussa naturalizzato italiano, il premio per il miglior film straniero a libertà della spagnola Clara Rochetti.